sono le 4 e 52 del mattino tra poco questo video avrà un senso ho deciso per una settimana di adottare la routine di Casey Neistat uno degli youtuber che preferisco che circa un anno fa ha fatto uscire un video sul suo canale in cui racconta la sua routine ora per ora si sveglia sempre entro le 5 e lavora per 2 ore fino alle 7 dalle 7 alle 8 fa colazione e dalle 8 fino alle 10 va a correre lui corre sempre dalle 10 alle 18 lavora con il mezzo al pranzo dopo il lavoro dalle 18 alle 22 tempo con la famiglia dalle 22 alle 23 fa un'altra ora di esercizi e alle 23 va a dormire 11 o'clock ho visto che molti youtuber sia americani anche qualche italiano ha già provato a fare questo video registrandosi tutta la settimana e facendo un video alla fine di quest'ultima riassuntivo c'è un piccolo particolare che ho visto non è stato considerato nella maggior parte delle persone provate a emulare questo stile di vita ed è che il Casey ogni giorno faceva uscire un daily vlog quindi da oggi vi svellerò tutte le mattine alle 5 per fare uscire un video al giorno per una settimana per una settimana per una settimana quindi quindi questa sarà la mia routine per la prossima settimana innanzitutto ci sono alcune cose da cambiare tanto come dice Casey nel suo video puoi prendere un'ora da una parte del giorno e spostarla con una di un'altra parte del giorno io ho notato che intanto colazione la faccio dalle 8 alle 9 quindi sposterò gli esercizi prima così da essere già pronto dopo colazione alle 10 inoltre c'è da dire che io faccio calcio quindi quelle tre ore di allenamento nei giorni in cui ho l'allenamento appunto calcistico le farò nell'orario dell'allenamento calcistico e quindi dovrò riorganizzare la giornata ma tutte le mattine lo farò vedere e poi un'altra cosa importante parliamoci chiaro io non ho un vero e proprio lavoro sono uno studente studio scienze potore all'università e l'università mi inizia fra una settimana quindi queste ore queste ore qui di lavoro sono segnate come lavoro ma mentre queste qua queste tre iniziali sono di lavoro vero perché sono il tempo in cui esiterò il video e anche le prime ore del giorno mentre quelle dopo pranzo sarà più tempo libero guarda il test e tapp sul cazzino della spazzatura guarda queste riprese comunque è il momento di fare le due ore di esercizio dato che mi devo allenare e dato che appunto come ho detto prima io studio scienze motore all'università vorrei introdurre tutti voi in questo nuovo segmento a proposito di allenamento in questi esercizi andremo a ricercare l'ipertrofia che sarebbe l'aumento del volume delle cellule muscolare quindi andremo a pompare cercare di ingrandire i nostri muscoli ci sono vari metodi per fare ciò importante è stabilire prima di utilizzare uno di questi l'1RM che sarebbe una ripetizione massima quindi una singola ripetizione di un esercizio che riusciamo a fare con un certo peso se non avete un peso abbastanza appunto pesante per fare questo test vi lascio una tabella qui che potete consultare vi basterà... ve la faccio vedere il numero di ripetizioni che fate con un altro peso se avete un peso per esempio per esempio se l'avete di 10 kg il numero di ripetizioni che riuscite a fare con 10 kg mettiamo ne fate 10? non lo so quindi 10 ripetizioni con 10 kg dovete dividere i 10 kg per questo numero il numero che uscirà è il vostro 1RM naturalmente prima il riscaldamento non ve lo dimenticate se no vi fate male allora oggi utilizzeremo il metodo degli sforzi ripetuti che sarebbero 4 serie da 10 ripetizioni al 60% dell'1RM il mio 1RM che quindi è 16 kg diviso 100 per 60 9,6 lo farò con 10 kg andiamo a fare la flessione dell'avambraccio sul braccio cercate di effettuare il massimo angolo possibile tra braccio e avambraccio durante l'esercizio un minuto di recupero tra una serie e l'altra con lo stesso momento ne andiamo i triccite quindi questo modo mettiamo così adesso andiamo con l'ultimo esercizio abbiamo fatto bicipite e tricipite facciamo un po' di spalle un esercizio che li riprende tutti quindi questo naturalmente potete variare leggermente l'esercizio tra serie e serie la prima l'abbiamo fatta così la seconda così e adesso possiamo fare questo bene finisce qui il segmento allenamento di oggi ora una bella doccia e poi mi sa che mi metto a editare un po' di questo video stamattina penso che l'avevo svegliato il parrucchiere perchè volevo andare a tagliarmi i capelli non mi sono ricordato che è lunedì che è il giorno in cui i parrucchiere stanno chiusi e l'ho svegliato quindi figurare merda poi è strano cioè mi sono svegliato stamattina alle 5 e ho sempre avuto fame ho appena mangiato e ho ancora fame manca 5 alle 10 sono in perfetto orario adesso faccio un'ora di esercizi ma per questo video li avete visti anche abbastanza quindi la farò off camera metto in carica tutte le batterie gopro eccetera e vado a letto ci vediamo domattina ciao 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 ciao